Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Game Seater. Rieccoci su The Forest per il video che vi avevo promesso l'ultima volta. Per chi non avesse visto l'ultimo video vi lascio il link in descrizione. Non era altro che chiamiamolo un tour di questa fortezza che avevo creato nella mia prima partita in single player, dove alla fine vi avevo detto che avremmo fatto un assedio appunto su questa fortezza. Quindi eccoci qui per fare questo assedio. Da adesso in poi allerta spoiler, ecco siccome ho finito il gioco dovrò utilizzare delle cose ottenute alla fine del gioco per attirarli. Quindi se non volete spoilervi nulla lasciate stare questo video, andiamo avanti. Ok, utilizziamo il manufatto alieno per richiamarli. Vi chiederete perché sto iniziando da qua sotto invece di farlo direttamente dentro la fortezza laggiù. Perché? Perché praticamente ogni volta che ci ho provato ne arrivano pochi, cioè relativamente pochi. Ne arrivano 30, forse 40 così e non bastano per sfondare la fortezza. Quindi dobbiamo iniziare a farli raggruppare qui per poi farli schiantare sulla fortezza tipo onde del mare, va nella speranza che spaccano tutto. Che poi se arriva un ariete, cioè uno degli abomini grossi, ci sono tre tipi di abomini. Quello là con tante braccia, quello là con tante gambe e quello grosso, diciamo panzone. Che noi chiamiamo l'ariete perché lui è l'unico che riesce in un attimo a sfondare le fortificazioni. Cioè pure gli altri due grossi gli fanno un bel po' di danno sulle fortificazioni. Ma lui proprio arriva in carica e distrugge tutto. Ok, iniziamo a raggrupparsi. Ma ancora sono pochi perché la fortezza è forte, dobbiamo aspettare un altro po'. Vedete, la mia arma preferita è l'arco moderno perché quando imparate a utilizzarlo ogni freccia è un headshot. Ci vuole arco moderno e freccia moderna. Infatti, mentre prima avevo soltanto frecce avvelenate e frecce di fuoco, ora tengo moltissime frecce moderne perché guardate. Morto, one shot, una freccia. Ok, penso che possiamo andare. Ci siete raga? Siete pronti? Dov'è, maledizione, me lo sono perso. Eccolo qua. Ok, andiamo. Vi aspetto raga. A tra poco. Ok, questo è il primo avamposto difensivo. Ma noi dobbiamo piantare questo maledettissimo manufatto all'interno, altrimenti non arriveranno mai fino a qui. Ok, eccoci qua. Vai. Già che ci siamo piantiamo pure questo perché così ci dà energia mentre combattiamo. Va bene. Abbiamo perso troppo tempo, mi sa. Staranno già arrivando qui. Eccolo qua. Maledizione, manco mi hanno fatto salire sulla torretta. Ah, si è spostato. E' fermo un secondo, mannaggia. E' che devo stare attento a non farmi colpire, quindi non posso concentrarmi su uno nel tiro. Ok, headshot. Niente, dobbiamo ritirarci a Saison. Entriamo nella prima posizione difensiva. Eccoci qua. Da qua riusciamo un attimino a contenerli. Gli primi iniziano a morire qui. Dai, raga. Mi avete fatto posare l'arco che stavate entrando. Appena esco l'arco arrivate, maledetti. Non l'ho preso in testa questo. Come hai fatto? Mi chiama... Come Spider-Man sono. Quello è morto ma questo ha scavalcato. Cose assurde. Sono entrati fin qua dentro. Pazzesco. Dobbiamo farli uscire di nuovo e dopodiché attiviamo la... Ah, eccoli là, i grossi, i grossi. Ok, questi sfondano. Ci siamo, raga. Finalmente un bel assedio possiamo fare. Eccolo qua. Ok. Quindi mi servono frecce di fuoco. Perché non me la fa accendere? Non me la fa accendere. Niente, utilizziamo la... La lancia con la Molotov per bloccare il passaggio qua. Eccoci qua. Benissimo. Ok, li abbiamo chiuso. Adesso utilizziamo queste per bombardarli. No, è entrato. Dobbiamo mollare. Ok, questo qui lo possiamo uccidere con le lance deboli. E' morto. Benissimo. Eh, adesso sarebbe ottimo se questo ci lascia un secondino in pace. Eh, ma come ci lascia in pace? Ah, così, così. Perché non mi fa prendere l'arma? Non ce l'ho... Bindata. Ok, così ci lascia un attimino in pace. E noi possiamo bombardare questo maledetto. Dov'è il mirino? Ok, eccolo qua. Abbiamo preso? Ma quando mai? Va, ora ti sposti là. Ma sei un bastardo, veramente. Aspetta, tu devi bruciare di nuovo perché sennò mi arrivi addosso. Voi direte, perché non riattivi le trappole? Perché sennò non entrano mai, veramente. Attivando le trappole non ziccano più. Ma non sta morendo quello. Penso che gli abbiamo fatto un po' di male, no? Stanno entrando, stanno entrando. Dobbiamo bloccare un'altra volta qua. Benissimo. Eccoli qua. Andiamo in corpo a corpo. Perché non arrivano gli arieti? Se arrivava un bel ariete qua sfondava subito. Ah, è quello là sotto. Sta arrivando, sta arrivando. Ammazziamo questa che sennò ci prende in fallo, come si può dire. Ok. Avveneniamo la lama. Veloce, veloce. Una cosa veloce. Ok, qua ci serve un'altra... Anneggia. Qua ci serve un'altra molotov. Benissimo. Ezzica. E fanno, dormono veramente. Ancora vanno sfondare. Ok, stanno arrivando quelli. Mannaggia, ma dove guarda quello? Che sta facendo? Chiamiamolo, va. Ah, un altro ce n'è. Appena arrivano questi, spaccano tutte le cose. Ok. Hanno sfondato. Dobbiamo ritirarci. Ok, saliamo qua sopra. Stanno arrivando anche quelli là sotto. Vediamo se riusciamo a dargli una svegliata da qua. Sì, mi sa che gliel'abbiamo data. Valizia, le sono difficili da usare queste catapulte. Perché il mirino non si vede dove cazzo, hai capito? Stavolta lo becchiamo. Ma perché si gira all'ultimo, quel bastardo? L'abbiamo preso. Esploso, l'avete visto? Eh certo, come avete fatto a non vederlo? Ok, stanno sfondando anche questa ultima palizzata. Dobbiamo utilizzare le molotov. Le molotov sono un'ottima cosa da usare quando stanno sfondando. Cioè, quando sono di sotto. Cazzo! Ma questo è psicopatico, veramente? E' impazzito, signori. E' impazzito, davvero. Dobbiamo bruciare qua. Ma che... E' pazzo questo. Uccidiamolo qua prima che spacca tutte le cose, veramente. Non ti accanire, che già hai fatto abbastanza danno. Non ti accanire. Minchia l'aper. La posi sto accendino di merda. Mi sono fatto distrarre. Ma mi è spaccato pure il deltaplano. Ma sei un porco proprio. Sì, rompi tutte le cose. Pure l'ultima. Eccolo là. Ah! Maledetto. Ti sblocchi all'ultimo. Mi prendi per il culo proprio. Dammi tardi. Culo grosso. Andiamo a fare un po' i cafoni con la pistola. Che sei brutto. Secondo me manco tua madre, dico. Ora ti facciamo la supposta. Ora diamo la supposta. Eccola qua. Oh, grassone. Siete finiti, ragazzi? Stavolta l'avate sfondato, finalmente. Mi restavano le ultime cose, però non ce ne sono più. Anche perché sì, il cancello l'hanno sfondato. Ma abbiamo un'altra trappola di fuoco là dove c'era il cancello da poter accendere in modo tale che blocchiamo il passaggio per un altro po'. Niente, non ce ne sono più. Signore, il primo round è di Lone Reaper. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi dispiace solo che siano finiti troppo presto i nemici. Magari, magari qualche altro riusciva pure a ucciderci. A ucciderci no, perché o ce ne andavamo col deltaplano, o ci buttavamo da qui nella zattera di salvataggio. Eccola là. Quindi comunque mi pare difficile che riuscivano ad ammazzarci. Ma comunque ci potevano fare divertire di più. Ecco, io sto perdendo tempo nella speranza che nel frattempo ne arrivano altri. Diamo un ultimo sguardo verso sotto. Niente, non ne arrivano più. Niente, signori. Ok, salutiamoci. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando. E un saluto alla prossima volta.